Cresce il mercato del digitale in Puglia, il 4% del valore nazionale che è di oltre 75 miliardi di euro. Il futuro è con il segno più, soprattutto in vista degli investimenti con il PNRR. Alcuni dati di uno studio condotto con il distretto produttivo dell'informatica ha presentato in apertura dei lavori del forum Ambrosetti nella sede di exprivia Molfetab della manifestazione insieme a Banca Popolare di Puglia e Basilicata. La capacità di offerta del territorio viene definita effervescente a fronte di una domanda non ancora all'altezza. Si sta andando verso la digitalizzazione ma non verso la transizione digitale. Digitalizzare fondamentalmente vuol dire acquisire tecnologie per fare in maniera digitale quello che si faceva prima ma non vuol dire trasformare i processi. Allora questo è un passaggio che la regione Puglia deve ancora fare e un aspetto significativo che emerge dai dati è che per quella che è la caratteristica del nostro mercato un attore importante in questo processo è sicuramente la pubblica amministrazione. La trasformazione digitale sta rivoluzionando anche il settore finanziario, meno filiali, più servizi da remoto. Le persone possono essere smart e anche la banca può essere smart. Il digitale tra i settori trainanti in Puglia cresce anche il territorio. È assolutamente necessario che le imprese di questo territorio, le istituzioni di questo territorio, le università debbano collaborare fra di loro per realizzare programmi a valere in particolare sul PNRR per scalare in termini di dimensione, in termini di velocità e dare a questo territorio un'accelerazione che merita.